Forti in campo, forti nella prevenzione. Il presidente del Canosa Calcio, Giuseppe Tedeschi, ha aderito al progetto di cardioprotezione e tutti i calciatori della squadra saranno abilitati all'uso del defibrillatore e impareranno a salvare una vita con le manovre di disostruzione. Si tratta del corso di rianimazione cardiopolmonare, sia pediatrico che adulto, accreditato al 118 regionale. Gli atleti acquisiscono così le tecniche giuste anche grazie all'utilizzo di manichini digitali di nuova generazione. Responsabile del progetto è Antonio Forte. Dopo l'esperienza positiva con la società sportiva Lazio Calcio, si replica la giornata formativa con i calciatori e lo staff tecnico del Canosa Calcio 1948, con un progetto che non solo protegge la vita dei calciatori e degli operatori sportivi, ma al contempo si propone di lanciare un messaggio etico sul valore della vita per cercare di promuovere la diffusione della formazione relativa all'utilizzo di manovre e salvavita nella società. Il corso teorico pratico della durata di circa 5 ore è diretto dal dottore Ignazio Deiudici Bus, infermiere e direttore del centro di formazione e progetto assistenza accreditato al 118 regionale e dai istruttori accreditati 118 che come volontari preparano i partecipanti a intervenire in caso di ostruzione delle vie aeree e arresto cardiaco. Un sentito ringraziamento alla parrocchia Gesù Liberatore nella persona di Don Michele Pace per l'accoglienza, fanno sapere dal Canosa Calcio. Un benefattore anonimo ha donato un defibrillatore alla società.